siamo sul monte fiara sull'altopiano di asiago 1630 metri di quota e qui abbiamo trovato lo sbricalock una bella grotta andiamo a vederla insieme questo è il pozzo iniziale indolina di circa 20 metri di profondità dietro a questa finestra un bel meandro con un bel punto di domanda alla base del pozzo la via verso il fondo la base del pozzo di qua un bellissimo camino ma noi procediamo in questa direzione la base del pozzo la via è stretta ma si riesce comunque a passare agevolmente la base del pozzo mi avvio verso il passaggio in frana per arrivare al secondo pozzetto la base del pozzo eccomi sopra il secondo pozzetto siamo a meno 40 il pozzo finisce 5 metri più in basso ma noi ci infiliamo in quella finestra per proseguire verso il secondo saluto ecco 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 qui il terzo pozzo che scende per una decina di metri mi infilo in questo meandro lungo circa una decina di metri che dà su un pozzetto per il quale abbiamo impiegato alcune domeniche per l'allargamento ci troviamo a meno 55 e in questo punto una diramazione ci porta verso due strade in basso verso il salone numero 3 attualmente disarmato e più in alto alla mia sinistra il salone numero 4 verso il quale ci avviamo e più in alto alla mia sinistra il salone numero 4 a quanto pare in questa grotta le frane sono una costante ora ci approfittiamo a superare questo masso per entrare nel quarto salone allora 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 in questa grotta si vede chiaramente la faglia che caratterizza l'intera grotta e lì si osserva lo specchio allora 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 la via buona sembra questa in mezzo a questa frana ma per oggi ci fermiamo qui abbiamo armato il pozzo che da sul salone numero 3 e ora andiamo a vederlo allora 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 Grazie. Grazie.